Non sprechiamo questa occasione. Gli effetti del cambio generazionale sul nostro tessuto produttivo. Secondo uno studio di un'impresa, il 25%, ovvero un milione di imprese legate all'artigianato del Made in Italy, rischia infatti di sparire. 55 miliardi la perdita stimata. Impauriti dalla burocrazia, scoraggiati dal peso delle tasse, sono almeno un milione i giovani virtualmente eredi di altrettante ditte artigiane a conduzione familiare che potrebbero rinunciare al desiderio dei loro genitori di tramandare l'attività. Il passaggio generazionale rischia insomma di portare alla morte di un gran numero di mini e micro imprese legate ai mestieri tradizionali. Fabbri, idraulici, sarti, falegnami, gastronomi, figure chiave del tessuto produttivo italiano destinate sempre più spesso a rimanere senza eredi. Secondo uno studio condotto da un'impresa, a mettere in discussione la continuità sono appunto le difficoltà legate alla successione, agli ostacoli burocratici, al fisco ma anche quelle connesse alla trasmissione delle competenze e della mentalità d'impresa. Un danno non soltanto culturale ma propriamente economico. Il giro d'affari in pericolo tocca i 55 miliardi di euro. In totale le imprese con meno di 10 addetti sono quasi 4 milioni. Rappresentano il 94,8% delle imprese attive, il 43,2% degli addetti e il 26,8% del valore aggiunto realizzato. Oltre 220 miliardi su 825. Un patrimonio a rischio desertificazione ma anche avverte un'impresa, nei casi di eccellenza, possibile preda di assalti stranieri al nostro Made in Italy. Grazie.